Ho capito Evacuazione totale Appena fuori distruggeremo questa base Direttore, chi provvederà alla distruzione? Io, personalmente Che cosa? Che cosa? No, è pericoloso Non c'è altra soluzione E ora uscite, presto Aspetti, direttore, non sia impulsivo Agire in questo modo non fa onore al suo soprannome, Nakajou Elkara Lasci che ce ne occupiamo noi Ma siete voi Isei e Yoshi Noi faremo da specchietto per le allodole Lei resti alla base D'accordo, mi affido a voi Galoppa, mi sei? Via Il nostro avversario è Lord Albert La parte dell'elite dei dieci è in gamba, ma non mi spavetta Sbrighiamoci allora, se la vedrà con noi E ora posso dare sfogo alla mia sete di giustizia Sta arrivando i sei Ho capito Evacuazione totale, appena fuori distruggeremo questa base Direttore, chi provvederà alla distruzione? Io, personalmente Che cosa? Che cosa? Ma è pericoloso Non c'è altra soluzione E ora uscita, presto Aspetti, direttore, non sia impulsivo Agire in questo modo non fa onore al suo soprannome, Nakajou Elkara Lasci che ce ne occupiamo Ma siete voi Vi sei e Yoshi Noi faremo da speppietto per le allodole Lei resti alla base D'accordo, mi affido a voi Coloppa, mi sei Il nostro avversario è Lord Albert A parte dell'elite dei dieci è in gamba Ma non mi spavetta Sbrighiamoci allora, se la vedrà con noi E ora posso dare sfogo alla mia sete di giustizia Sta arrivando i sei Ma non mi spavetta